Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Stando alle anticipazioni fornite da Amici News e Superguida TV, nessun allievo sarebbe stato eliminato. Lil Jolie avrebbe eseguito la sua sfida e avrebbe fatto ingresso nella scuola un nuovo cantante. Dopo la sfida inediti, fanno sapere Superguida TV e Amici News. Petty si sarebbe posizionato primo, Holden e Lil Jolie sul podio insieme a lui al secondo e terzo posto. Ultima Sara che avrebbe dovuto consegnare la maglia alla sua professore Sofia, invece, si sarebbe posizionata prima nella gara ballo, secondo Kumo, terza Lucia. Nella stessa sfida di ballo Giovanni si sarebbe classificato ultimo. Lil Jolie avrebbe eseguito la sfida che temeva, si è esibita contro un aspirante allieva, Giulia, ed avrebbe vinto. Nella scuola, si legge, sarebbe entrato un nuovo cantante, Malia. La prova Oreo sarebbe stata vinta da Gaia, quella Marlu invece da Martina. In studio Simone avrebbe eseguito il compito voluto da Raimondo Todaro ma la performance avrebbe scatenato un duro litigio tra l'insegnante e Emanuello. La nuova puntata di Amici 23, stando alle anticipazioni, vedrà come ospiti musicali gli articolo 31 e i comacosi che presenteranno il nuovo singolo. Ci sarà ancora Giovannino per una videochiamata con Sabrina Ferilli, giudici della puntata Federica Camba, di Kelly e Jerry Scotty per il canto mentre Veronica Peparini per la gara di ballo. Continua su. prophets Louise www.phan page.it spettacolo programmi tv anticipazioni amici 23 puntata del 17 dicembre nuovo ingresso les H sfida di l h www.fanpage.it